Il motto della banca di Vignole e Montagna Pistoiese è La mia banca è differente, ma è davvero così? Andiamo a chiederlo ai protagonisti Nome? Veronica Cardo Marisali Edà? 21 80 Diteci un rimedio della nonna Ma, eh... Il limone che fa passare il singhiozzo Ma, il caffè da mattina per svegliare One Direction o Cianella Kessler? Oddio, eh... Per l'età dovrei dire One Direction A me mi sembra che ha chiuso le donne sicuramente Il tuo problema preferito qual è? Eh, chi vivrà vedrà Ma, io, invecchiare sempre così Fai una smorfia? Nè Ma, che smorfia voi faccia Su che morire tra poco Fai un saluto e voi quietate Ciao Forza ragazzi, siamo tutti ventenni Nome? Pierfrancesco Pierginia Cognome? Frizi Fazzoni Professione Studente universitario Da poco disoccupata Età? 20 25 Chi porta meglio gli anni? Lei E come? Sei soddisfatto del rapporto con la tua banca? Molto soddisfatto E abbastanza La tua banca ti offre dei vantaggi anche extra bancari? Sì, molti Non credo Vergine, come mai secondo te hai vinto il casting della banca di Mignola con Tegno Vistiles? Me lo sono domandata anch'io E non lo so Era dopo un aperitivo che sta chiesto Non mi ricordo tutto Perché Vergine ha vinto il casting per Francesco? Per la simpatia Nome Giacomo Giancarlo Cognome Mungai Gori Professione Vivaista Pensionato Età? 29 Quasi 30 74 Chi porta meglio gli anni? Sicuramente il presidente Mi sembra giusto Anche la vede di tutto così Sposato, fidanzato o singolo? Fidanzato Sposato E lei è gelosa? Abbastanza Penso di sì Cosa ne pensi dell'altro presidente? Arrivarci Magari avessi io giovane, anche a lui, è sicuramente interessante Ovviamente io gli auguro, non solo gli auguro, ma certamente arriverà a raggiungere l'età mia O comunque è nostra in questo momento e magari vi auguro di arrivare anche a fare dei passi per poter migliorare la banca e la banca del credito educativo di Vignore Montana Pistagliese per poter continuare lo sviluppo sia economico soprattutto del territorio ma anche sociale e culturale nella tradizione del credito educativo Accendereste di scambiarvi i ruoli? Io sì, assolutamente sì Fai una smorfia? Saluta l'altro presidente Presidente, ciao